A Satriano Marina, una centrale operativa con assistenza sanitaria a domicilio. Assistenza infermieristica, assistenza medica, assistenza con os, fisioterapia e assistenza sociale a Satriano Marina. Apre una centrale operativa ADI Quality con direttore sanitario dottor Carlo Torchia. Per informazioni telefonare al numero 320 49 74 184 oppure www.adquality.it oppure info-adquality.it È proprio vero perché praticamente da poco tempo siamo partiti con l'assistenza domiciliare integrata. ADI Quality è il nuovo player della sanità calabrese dopo un lunghissimo iter procedurale a ricevere un'autorizzazione in termini di assistenza domiciliare. Quindi fondamentalmente facciamo un'assistenza domiciliare, si chiama assistenza domiciliare integrata ed è rivolta a tutti quei soggetti più fragili che non possono uscire o allontanarsi dal proprio domicilio per diverse ragioni tra cui la patologia, tra cui l'impossibilità a raggiungere i luoghi di cura quindi il domicilio che diventa luogo di cura anche nella direzionalità prefissata e imposta dal PNRR. Siamo un player che opera in ambito esclusivamente privato ma non escludiamo anche altri nuovi tipi di servizi prossimamente con l'interlocutore istituzionale pubblico. Crediamo fortemente in quello che è il servizio in favore dell'utenza, in questo caso ancora una volta in favore dell'utenza più fragile e ci siamo strutturati con un'ampia offerta e con un organico fortemente impostato sulla professionalità. Infermieri, medici geriatri, medici internisti, fisioterapisti e os che vanno direttamente nei domicili di queste persone e operano su tutto il territorio della provincia di Catanzaro, quindi nelle aree più disagiate di montagna che patiscono i disservizi legati ai nostri territori, ecco che in questo caso ancora una volta il privato tende la mano ai cittadini, alla collettività ma anche al sistema sanitario regionale e nazionale che sempre di più arranca in una condizione in cui sempre più domande ci sono e sempre meno servizi rispondono. Quindi le persone per avere questo servizio cosa devono fare in pratica? A chi devono rivolgersi? Abbiamo una centrale operativa dell'ADIA di Quality qui a Satriano, esiste una casella di posta su cui scrivere le proprie richieste e oppure chiamare direttamente al centralino con la quale i nostri operatori di centrale operativa sapranno dare tutte le pronte risposte immediate per la capacità di presa in carico che il paziente ha necessità.